Io vi do appuntamento, vi ricordo gli appuntamenti Sky di questa sera, assolutamente imperdibili su Caccia e Pesca Channel Sky, alle 20.30 i consigli pratici il magazine per il cacciatore, consigli pratici per il cacciatore questa settimana come distinguere Giuliano Ferrara da un cinghiale di 200 kg su ESPN Sport Classica alle Ori 21 Vieni avanti Variale, la collezione di tutte le cazziate subite da Enrico Variale in carriera anche l'introvabile filmato in cui Variale viene preso a pedate nel sedere da Maria Teresa di Calcutta, la donna più buona del mondo su Hot Club alle ore 23 è un film che ha per protagonista Caccione, si chiama Emanuele Bianco il primo hard con Emanuele Caccione dove si scopre che lui si chiamerebbe Cascino ma l'hanno soprannominato Caccione per un motivo ben preso molto bene, io ringrazio i miei ospiti Passoni, Caccione la... la...